Sono 77 le persone denunciate per reati fiscali. Sono stati sequestrati beni per oltre 5 milioni 400 mila euro e scoperti 67 evasori totali e quindi completamente sconosciuti al fisco che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi. Sono stati individuati in oltre 18 imprenditori che hanno utilizzato 110 lavoratori irregolari, di cui 25 extra comunitari e 36 in nero aumentati del 300% rispetto al 2013. Questi i dati delle operazioni portate a termine lo scorso anno dalla Guardia di Finanza della provincia di Pesaro e Urbino. Attività illustrate dal comandante provinciale Antonino Raimondo assieme agli omonimi dei reparti dipendenti, il comandante della stazione di Fano Francesco Mancini, quello di Pesaro Marina Giovanditto di Urbino, Antonio Dima e dal tenente colonnello Vito Caradonna del nucleo di polizia tributaria di Pesaro. La nostra mission nell'attività di polizia economico-finanziare è quella della tutela della legalità. Tutela della legalità che quindi si manifesta nelle sue variegate sfaccettature, una delle quali è il contrasto dell'evasione di carattere fiscale, ma è chiaramente solo la nostra prima mission. La seconda è sicuramente quella che riguarda tutto il comparto della spesa pubblica. E proprio nel reparto della spesa pubblica sono state denunciate 35 persone che hanno percepito indebitamente contributi per circa 120.000 euro. Sono stati inoltre deferiti ulteriori 26 soggetti per un danno erariale di oltre 107.000. Ma le fiamme gialle pesaresi hanno operato anche a contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. In 7 sono stati denunciati sia per peculato che per abuso d'ufficio. 16 invece sono le violazioni sull'utilizzo dei carburanti. In questo caso la Guardia di Finanza ha controllato ad esempio se i prezzi indicati nella colonnina erogatrice poi corrispondevano effettivamente a quelli presenti sui cartelloni. Il mercato dei giochi e delle scommesse invece ha portato alla denuncia di 8 persone, un'evasione di tributi di circa 85.500 euro e il sequestro di un immobile. Non sono mancate poi le banconote false di vari tagli, per la maggior parte quelle da 20 euro. Infine 3.733 sono le merci contraffatte come capi d'abbigliamento e prodotti di elettronica. Come ripetuto più volte dal comandante Raimondo l'obiettivo del corpo è quello di garantire il rispetto della legalità economica e di ripristinare le condizioni di giustizia e solidarietà tra Stato e cittadini. In quale modo i cittadini possono contribuire? Beh, pensiamo una cosa, la nostra intera attività è quotidianamente al servizio dei cittadini, dei cittadini onesti e delle imprese oneste e virtuose che cercano di rispettare tra le mille difficoltà della crisi economica degli ultimi anni, le loro attività economiche e di salvaguardare i propri posti di lavoro. I cittadini devono contribuire facendo rispettare loro per primi le regole fiscali e le regole di legalità che riguardano non solo l'aspetto fiscale ma anche chiaramente tutti gli altri settori, settori che nel loro complesso garantiscono un'azione di legalità economica che consente a chi è onesto, a chi è sano di poter continuare a vivere e poter continuare a progredire in maniera corretta sul mercato.